Per quanto riguarda la partita di domani, penso che Parma si trova nella stessa situazione di quella che eravamo noi qualche giorno fa, perciò dobbiamo aspettare una squadra cattiva, arrabbiata, con la bava in bocca che dà 150% sul campo, concentrata e che farà di tutto per vincere la partita e noi non dobbiamo essere di meno perché, come ho detto, noi dobbiamo avere sempre quell'atteggiamento che abbiamo avuto domenica o che abbiamo avuto qualche partita quando abbiamo fatto bene, perché ogni volta quando era atteggiamento in spirito giusto abbiamo fatto anche delle ottime prove, perciò è sicuramente una partita difficile che può anche diventare magari dopo facile, dipende sempre da noi come entriamo in campo e come interpretiamo la partita, ma sicuramente se loro saranno cattivi, determinati, noi dobbiamo fare altrettanto, non solo domani ma tutte le partite, solo così si può uscire fuori, cercando sempre di giocare bene, poi si vedrà. Ciao Sinisa, senti, due domande non assumuto, intanto quella proprio tecnica ti chiedo come sta, se lo combo che lo porti in panchina e se eventualmente potrebbe anche giocare 10 minuti, invece una domanda di grande respiro nel senso che tu ti sei speso molto per lui in questi mesi, l'hai difeso come pochi allenatori difendono i loro giocatori e tra l'altro non è che eravate stati compagni di squadra, io avrei fatto questo con chiunque, i miei giocatori per me sono migliori al mondo e io li difendo contro tutti, dimmi dimmi. No, volevo concludere dicendo, se te, visto che sei uno abbastanza sveglio e di esperienza, se credi veramente che lui abbia capito che si gioca l'ultima carta, l'ultimo calcio di rigore, oppure c'è da stare sempre in guardia perché è difficile comunque tenere la barra al centro. Allora, per quanto mi riguarda, Mutu riparte da zero, perciò lui sul campo e non ha parole deve riconquistare la mia fiducia e lo stesso con il suo comportamento dentro spogliatoio deve riconquistare la fiducia dei propri compagni, perciò basta parole, bisogna fare i fatti, tutti noi ma lui per primo. Poi ieri ha fatto primo elemento con noi ha fatto bene, lo vedo motivato, è tutto. Penso di portarlo in panchina, puoi vederlo se utilizzarlo o no durante la partita. Buongiorno Sinisa, ti chiedo quello che è successo in questa stagione, dopo buone prestazioni, dopo buone partite, spesso è arrivato il calo, il passo indietro, tante volte abbiamo detto abbiamo fatto un passo avanti e poi la domenica dopo due passi indietro. Ti chiedo se hai paura di un passo indietro domani, se ne avete parlato e come si evita il passo indietro. Abbiamo parlato e è proprio quello anche che gli ho detto io perché noi dopo ogni volta che abbiamo fatto una buona prestazione partita dopo abbiamo fatto schifo e questo non vorrei che si ripete anche domani, per questo parlando con loro e non ho voluto quando sono andato a parlare con loro sentire quello che dicono loro ma ho voluto dire certe cose dove loro possono riflettere. E quando gli ho parlato gli ho detto che sicuramente come io anche per vent'anni ho fatto un calciatore. Io ho fatto la domanda che dopo la partita di domenica, quando è finita la partita, se loro quando rimangono con se stessi e fanno analisi della partita, se c'era qualcuno che si poteva rimproverare qualcosa, di non aver corso, di poter fare qualcosina in più di quello che è fatto e credo che ci sarebbero stati pochi o nessuno che si poteva rimproverare qualcosa. E questo è il punto su quale bisogna lavorare, su quale bisogna crescere. Non guardare sempre gli altri, quello che succede perché dici vabbè tanto io ho fatto male però anche il mio compagno ha corso meno di me. Ma bisogna guardare se stessi e farsi una coscienza, un esame di coscienza, ognuno con se stesso. Che succede? Che quando finisce la partita che non si possono riproverare nulla. Essere consapevoli di aver dato tutto su campo. Io non posso a loro chiedere di giocare bene o giocare male, perché questo purtroppo non si può sapere. Però ognuno di loro a se stesso può chiedere di dare il massimo per quanto riguarda impegno, grinta, determinazione, concentrazione. E quando loro a fine partita escono stremati, come è uscito Montolivo o tutti gli altri, si può anche perdere, ma sicuramente non si perde come si è perso a Lazio, con la Lazio o qualche altra partita. Ma si può perdere, ma nessuno ti può dire nulla e tu non ti puoi riproverare nulla. Volevo chiederle come sta Gilardino. L'altra domanda invece è su Cerci. Lei lo ha rimesso in campo anche in modo coraggioso, però di nuovo i fischi. Questo lo ha già commentato. Le chiedo più per il futuro. È una situazione che la preoccupa, visto che mi sembra che Cerci sia un giocatore che a lei piace. Cioè può subire questa situazione che effettivamente per lui è pesante. Ma Gilard sta bene. Quanto può stare bene, diciamo, c'è sempre quel fastidio al ginocchio, ma comunque si allena regolarmente tutto e sta bene. Sta bene. Per Cerci, come ho detto, mi dispiace perché che l'hanno fischiato, che l'hanno fischiato è tutto, ma penso che questo non dovrebbe più succedere perché è brutto fischiare un giocatore prima di entrare in campo. Mi sembra una cosa tanto stupida. Però l'hanno fatto, perciò stiamo aspettando e speriamo con i nostri tifosi comunque che ci danno una mano, che ci danno una mano in tutti i sensi, ma anche in questo. Perché noi lavoriamo con un ragazzo che comunque cercare di recuperarlo è tutto, psicologicamente è tutto. E sicuramente se le aiutano anche i tifosi sarebbe più facile questo recupero. Anche perché lui è un ragazzo sensibile, è giovane. Infatti io, anche prima della partita, gli ho parlato per capire se lui, come sapevo, l'atmosfera quale sarebbe stata per la partita. Ho detto, ma se ti fischiano e tutto tu sei condizionato o comunque non te ne frega niente e cerchi di giocare. Dice no, no, io non mi faccio condizionare dai fischi, da tutto. Comunque a fine sicuramente, ma non tanto i fischi durante la partita, quanto quei fischi prima che entrava in campo che l'hanno fatto male. Perché sai, uno quando vai in campo e gioca male o magari si aspetta si può anche fischiare, ma dico fischiare prima di entrare in campo mi sembra un po' assurdo. È questo che lo ha ferito. Poi dopo comunque lui, secondo me, ha fatto anche bene perché il ricorso avversario ha avuto anche un'occasione e tutto. Invece ho fatto quello che doveva fare in quella situazione e in quel stato d'animo. Sì, sì, è successo perché con un'azione che quando è riuscito là ha avuto occasione di far gol, non quella quando è driblato due e quando è entrato su portiere e poi è rimasto là dietro. Lui è un intervento di Edoardo in tutta la partita. Sì, che gli ho detto di dover tornare, ma si vedeva che anche lui psicologicamente non era... però è finito là per questo. Però noi cerchiamo di recuperarlo perché è un giocatore per noi importante, uno che è davanti e uno dei pochi che comunque... Il gente lo fischia perché lui dribbla e magari perde la palla, ma lui deve fare quello che dico io e non quello che dice la gente. Perché io gli dico che io mi arrabbio con lui se lui ha possibilità di dribbillare e non dribbla. Ma se lui ha possibilità di puntare, deve puntare sempre. Poi se gli prendono palla va bene, ma se gli va via è un'altra cosa. Come uno dei pochi che comunque sulla fascia può andare via, dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche. E lui ascolta quello che gli dico io, poi magari gente lo fischia perché magari tre volte prova ad andare via e perde tre volte la palla. Va bene, ma lui deve sapere che lui se non dribbla, se non punta, non gioca. Finché fa quello che dico io, allora fino allora gioca. Quando entra e gioca.